Quasi tutto. Per me dice, a me non manca niente. A me non manca niente, cioè i negozi sono forniti di riso, di zucchero, di roba necessaria, della carne. C'è la reazione degli altri. Cioè, mentre lei dice che oggi si vendono peperoncini, perché ieri per esempio non c'erano. Da tre giorni che vengo nel mercato non trovo. Insomma, è una discordia di opinioni. Lei dice che io prendo ogni mattina. Lei dice che io da tre giorni è la prima volta che trovo questa roba. Lei tutti i giorni ha preso questo. Lei per dire qualcosa o che? Solo questo. Sì, solo questo. Non c'è niente. Non c'è niente. Ah, sta, non c'è. Asprasso, spinaci, assiepa. Lei dice che non si trova né spinaci né poro né niente. Gli do dite, Maria, lei va in frigorifera. Io compro ogni giorno e li metto nel mio frigorifero. Lei dovrebbe vendere anche la frutta o no? Queste frutte... Sì, vendo io, ma non esistono nemmeno. Non si trovano. Da due mesi non c'è nessun tipo di frutta. Le uova arrivano sempre? Sì. Sì. Queste però si possono prendere soltanto con la tessera? Un'atmerazione invece. Sì. Ogni famiglia ha una tessera e ha diritto a quante uova a settimana? Sì. 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 Per una famiglia. Per una famiglia. Qual è la composizione della famiglia? Come si uscora il numero del frutta i famigli. Come si uscora le famiglie? Poi. Come, quando ci sono grandi famiglie hanno diritto di due tessere. Grande famiglia? Che significa? Quante persone? Quante famiglie? Più sveta! Più sveta! Più sveta! Più sveta!